Buonasera signori e signori, ragazze e bambini dagli 1 al 103 anni, benvenuti allo spettacolo del mondo all'incontrario, il mondo a testa in giù, con l'ombalico nelle spalle, con la destra e la sinistra, con il davanti e di dietro, il mondo del giorno d'oggi signori e signori. In questo spettacolo vedremo ruscelli dove scorrono le fiamme, vedremo draghi sputare acqua, vedremo bambini che si convertiranno in monete signore e signori, la signora luna illuminare il giorno e il signor sole splendere di notte. Grazie signore e signori e vi auguro di passare una buona serata con noi allo spettacolo del mondo all'incontrario, in un paese dove la plena di maggio non ci sono più bancarelle. Noi per buttare via quattro rami bisogna pagare. benvenuti nel mondo all'incontrario, a testa in giù. Dovete sapere cari amici, forse vi chiederete perché sono fatto così, con questo grande pancione. E se guardate bene vi sembrerà di riconoscere qualche continente, però mi direte, no, questo mondo è l'incontrario. Scusate. Questo mondo è l'incontrario, però è un mondo che oggi abbiamo, quindi bisogna rispettarlo. E la mappa, il mappamondo che ci insegnano da scuola, ragazzi, mente, perché l'equatore non lo attraversa a metà. Ma tutto quello che sta al nord sembra più grande di quello che c'è al sud. La geografia ci ruba lo spazio, ragazzi. Come la storia ci ruba la memoria. E ora la comunicazione è una merda, ci ruba la comunicazione verale, signori, è l'amicizia. Come ci hanno rubato anche la bancarella del primo di maggio. Dovete scusarmi, non voglio annoiarvi, ora me ne vado. Lascio fare ancora una canzone al mio amico Masco Rossi. Più tardi attenderemo anche Manu Ciao, però ci hanno comunicato che c'è un po' di traffico al gottardo e tarderà un pochino. Grazie signore e signori. Grazie a tutti.